Boccata d'ossigeno per 367 imprese siciliane, che potranno godere dei finanziamenti concessi dalla Regione in merito al PO 2014-2020. Programmo operativo costruito sulla base di un'analisi dei bisogni rilevanti, dei problemi e delle opportunità che caratterizzano la Regione siciliana, coinvolgimento del territorio attraverso un percorso di consultazione pubblica. 170 milioni di euro sarebbe l'ammontare dei finanziamenti concessi. I decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti in questi giorni. Quota che vedrà 100 milioni di euro stanziarsi per le nuove iniziative imprenditoriali, mentre i 70 milioni di euro andranno ad aziende già esistenti. Introiti che daranno l'infa al substrato regionale delle PMI in sofferenza da svariato tempo. Diverse saranno le categorie aziendali interessate dal finanziamento, dalle miniere alle attività manifatturiere alla fornitura di energia elettrica, gas, vapore e acqua, sino al commercio all'ingrosso e al dettaglio. Non mancheranno finanziamenti ai servizi di informazione e comunicazione e alle attività professionali, scientifiche e tecniche. L'obiettivo dell'amministrazione regionale sarà quello di dare nuovamente vigore al tessuto economico, per renderlo competitivo, innovativo e internazionale. Siamo convinti, dice il presidente della regione Nello Musumeci, che solo attraverso il rilancio delle aziende si possa avere un futuro per i nostri giovani. E l'azienda è quella che crea occupazione, produzione, quindi crescita e sviluppo.